Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Pianetobbies, sono sempre il vostro Merca e oggi ragazzi siamo qui per andare a spacchettare spada scudo, fiamme oscure, l'elita trainer ragazzi un po' in ritardo perché ero in ferie e sono ritornato oggi dal negozio quindi spero che anche voi avete passato bene le ferie anche perché voi ormai le ferie le fate fino a ottobre forse voi dovete ringraziare il covid d'altro che state belli a casa a guardare i spacchettamenti spacchettare ok ragazzi andiamo ad aprirlo allora come al solito abbiamo dentro questo blisterino poi abbiamo aspettate che sposto un attimo va il classico poster il poster nascosto e poi andiamo il nostro vicino prima però di andare a esplorare il nostro Elite come al solito sigla ok ragazzi andiamo ad esplorare il nostro volantino anche se ormai ragazzi non ha più senso perché sapete già le carte che ci sono dentro perché avete spacchettato come non so cosa eccole qua il nostro obiettivo è trovare il nostro Charizer ma vi posso garantire ragazzi che ho aperto talmente tanti box eccolo qua che purtroppo non l'ho trovato io io effettivamente non l'ho trovato abbiamo questo allora cosa abbiamo qua cos'è questo ah il libricino per come giocare beh giustamente se te la notte ci sta poi 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 cosa abbiamo qua 1,2,3 4,5,6,7 8 pack poi 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 bustine protettive mamma che brutte no ragazzi questi sono veramente orribili mamma mia lasciamo stare e il nostro bel codicino per sbloccare in teoria le bustine protettive e portamazzo può essere questo cosa abbiamo wow mi son dimenticato dalle nostre chili di energia divisori i nostri segnalini per venenato e bruciato e poi i nostri dadi con i numerini andiamo con questo qua come è non è neanche metallizzato oddio che brutto questo dadi ok mettiamo via questi che non ci interessano insieme al codice e le nostre 300 energie e abbiamo le nostre 8 pack allora raga non so come sia il pool di qua dentro non l'ho mai aperto è il primo che apro adesso questi litri sono bellissimi che hanno questo taglio stranissimo si chiude poi non si chiude più ragazzi vedete rimane così perché poi dopo voi lo prendete e lo tirate su lo avete che non hanno capito che era difficile aprirlo senza il taglio allora abbiamo le nostre bustine tiriamole fuori così magari se troviamo qualcosa di bello ma dubito fortemente la imbustiamo ok raga iniziamo subito col primo pack codicino lo mettiamo qua 1 2 3 4 e andiamo subito a vedere energia di metallo si noticino storabia dartx vanillite vanneby passimian deino electric ursa ring è cattivissimo e abbiamo un agronolo raga ecco la nostra primo pack il nostro primo holo primo holo non male l'idea di lasciare per ultimi i pacchetti di zardone magari tengo qualcosa un pack qua purtroppo ragazzi non ho la telecamera davanti perché non ho il piedistallo qua l'ho lasciato a casa quindi potete capire del perché è a casa forse sta arrivando uno spacchettamento della mia collezione più che spacchettamento devo farvi vedere un pezzo di collezione winpod combo scan e oh è tra un holo ancora raga 2 su 2 beh non male diciamo che le holo non le buttiamo via non le disfraziamo ne ho un altro pack per ora 2 su 2 di holo sempre meglio che niente perché di solito troviamo nulla ok ragazzi eccoci qua allora abbiamo una bellissima il già buio sinotic ancora vanillish ginepro dumpspace bansuit spinarac buio non è tipo erba pamper oddio ma che figata è diglett con il titolo statua bellissima relicant e oh rose full art ragazzi che si abbina tantissimo al mio tappetino che bello raga bello 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 tac e una ce l'abbiamo vedo che però come carta che ho notato nei vari spacchettamenti perché io guardo anche qualche spacchettamento è una carta che è molto con un pull molto alto cioè il full art allenatore trovi sempre praticamente lui andiamo a aprire il nostro pacchettino ok 1 2 3 4 allora energia elettro fossile raro doctrio sismir taurus che bello sto taurus ragazzi bella questa arturk madonna quanto decentrato oddio quanto è decentrato ragazzi ma sono tutte decentrate tantissimo quella guy sta mamma mia no spero di non trovare nulla perché sono così decentrate gigi può freverse se è un assegur un po no normale questo è leggermente più decentrato a sinistra ok ragazzi andiamo andiamo un po 1 2 3 4 eccolo qua energia parasect energia nascosta frecinder cubo scramory gotita paras marip marenni e un euro no magnetrick raro bene terzo ultimo pack raga oddio ok riuscivo a aprirlo ok non riuscivo a aprirlo 1 2 3 4 ok energia lotta parassolo grande vabbè ok la smetti di far casino un pacchetto ok carvine fluffy sinistri textoxel bundleby winpod cubco bundleby e uno swan raro devo dire che solo una full art non sarei molto contento di tutto ciò però che dobbiamo fare energia psico energia fuoco corsaring vecchio pc chiklipof rolet cubco aron starley draco zolt reverse e clink clang raro raga ultimo pacchetto per ora solo una carta mamma mia ma dai che tristezza mamma ci sono notizie devo dire che quest'anno ma ecco questi box sono orribili cioè io ve lo dico questa cosa che hanno fatto che fra poco ristampano i box è stato meno male perché sennò guardate che roba mister mine cioè su 8 pacchetti setterare una sola full art che dire peggio di così non poteva andare peggio di così non poteva andare ragazzi allora piccolo rassunto vabbè a parte tutti i soliti dadi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codici di fiamma scura che magari se questo è di riscatto la introverò più roba sicuramente molto probabilmente poi abbiamo la nostra cartina che possiamo metterla qua dentro ma vabbè posso anche evitare fra poco perché non vale praticamente poco ragazzi purtroppo se non sbaglio sta su una ventina di euro penso penso se non sbaglio nostre bustine ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video bella raga ciao ciao Grazie a tutti